Nutrire come fornire risorse e supporto filantropico. Nutrire come alimentare diritti, soprattutto quelli dei minori. Si incammina su questo doppio binario l'impegno della fondazione pesarese Vanda di Ferdinando che ora amplifica a livello triennale la sua pianificazione di attività filantropica. Attività interna e destra accompagnata oggi dall'applauso del comune di Pesaro e delle tante associazioni, enti e missioni toccate dalla loro generosità. Vogliamo nutrire tutte quelle realtà sia a livello locale che a livello internazionale che hanno ispirato in noi un'attenzione rispetto anche a quelli che sono gli obiettivi numero 4 e 5 dell'agenda 2030 dell'ONU. L'obiettivo 4 è quello che tratta dell'istruzione di qualità e l'obiettivo 5 è quello che tratta della parità di genere. Queste sono state la bussola per noi per scegliere le attività che andremo a finanziare. Dove nutrire non significa solo dare supporto filantropico ed erogativo ma significa anche alimentare quell'immaginario simbolico che ci unisce tutti per la tutela dei diritti dei minori che per noi chiaramente è importante ed è la mission della fondazione vanda di Ferdinando che è contenuta nell'articolo 2 dello statuto. Fra le novità della pianificazione l'istituzione del fondo ucraina che destinerà 10.000 euro ad un fondo gestito da Caritas Pesaro in favore della popolazione in fuga dalla guerra rifugiata sul territorio provinciale. Erogazioni locali indirezzate ad esempio anche al contrasto dell'abbandono scolastico. Erogazioni estere che prevedono 3.300 euro annui in favore di missioni in Venezuela in Kenya attraverso l'associazione Africa Chiama e al villaggio dei ragazzi sorridenti che da oltre 25 anni vede attiva la missione in Etiopia di Abba Marcello Signoretti oggi presente a Pesaro per portare la testimonianza di quanto realizzato in questi anni nella comunità etiope di Soddo fra bisogni sociali e distruzione. Il 2022 è un anno in cui la pianificazione può essere riassunta con i termini connessa, circolare, plurale e quello che andiamo a fare quest'anno in particolare di nuovo è finanziare su un piano triennale perché vogliamo dare un maggiore respiro in un'ottica temporale a quei progetti e a quegli enti che usufruiscono del nostro aiuto. Grazie. 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 Grazie.